Allora, esperienza bellissima, emozionante, fantastica, è stata una cosa da ripetere. Per me questo corso dovrebbe durare qualche anno di più e non solo otto mesi. E' interessante, formativo e di grandissima condivisione sia con le parti tecniche che con tutte le altre compagnie di corso e compagni di corso. Confermo che è stata una bellissima esperienza, ho approfondito tantissime cose che avevo studiato, alcune devo rivederle, me ne sto rendendo conto. E spero in futuro di poter portare questa mia esperienza sia per i medicinali ma anche e soprattutto nei rapporti con le AS, con la US e essere di pubblica utilità un po' per tutti. Poi cosa fondamentale è acquisire queste informazioni per dare supporto alle associazioni, alle categorie di pazienti ammalati e a tutti gli altri pazienti che vogliono diventare paziente esperto o eupati.